...della spina nel cuore che abbiamo qui a Made in Sud, perché è quattro anni che questo uomo ci perseguita. È un caso umano, perché lui è fermo agli anni Ottanta ed è convinto di essere il clone di un grande artista negli anni Ottanta. Noi riusciremo a portarlo nel 2011 e fargli capire che quell'artista è cambiato artisticamente nella vita privata. Signori, vivo D'Angelo! Oggi è vestito da indianchino. Grazie, pubblica, grazie! Non resterai cercando quello che hai... Vi ame pubblici, vi ame a tutti quanti, il vostro affetto mi dà mille colori, mille sfumature, non siete un pubblico, siete il secchio con la vittura. Ma che paragon è? Abbiamo sempre amato le metafore di vivo D'Angelo. A voi, a voi... Che succede? Ma scorre lassù! No, 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 non lo sa. Non è possibile. Ci sono le luci. Inizio la terapia con una domanda mirata. Allora, vivo, devi capire... Che succede? Devi capire una cosa. Nino D'Angelo non è più questo qui col caschetto e noi cercheremo di fartelo capire anche stasera. Stasera scendeci... Ambrezza e venga a tutte con le mani. Scende prima e vado a te, si fa barbio. Anna Mari. Non è Anna Mari, è un uomo. Anna Mari perché si è cambiata? È un uomo, è ovvio. Anna Mari, non ti ricordi più tutte le belle cose che abbiamo fatto insieme? Mi ricordo una volta quando venissi dove lavoravo io, ti ricordi? Mi ricordo che venne dove lavoravo io e mi portò una marenna. Oh, una merenda. No, mi ricordo, era proprio una marenna, mi ricordo io. Sì, ma la marenna a Napoli sarebbe il panino a colazione. Mi portò questa marenna, io appena la vidi subito l'addentai e tu come una bimba ti mettessi a piangere. Per l'emozione? No, stava ancora la mano sua dentro. Grazie pubbliche, grazie veramente a voi. Due castagne. Ma che è due castagne? Le castagne, le pigne in testa, non le castagne. Ma parliamo d'altro. Parliamo d'altro. Terapia, terapia. È bellissimo vederti così, conciato da in bianchino, ma di quel vecchio mestiere. Bene, cosa ti è rimasto? La pittura anguola, grazie a voi. Grazie a voi. La pittura addosso. Che succede? Sei rimasto di stucco, diciamo una cosa. Sei rimasto di stucco. Anna Maria. Non è Anna Maria, è sempre un uomo brizzolato. Anna Maria perché mi ha lasciato Anna Maria? Diggielo a tua mamma che io sto mettendo i soldi da parte per costruire il nostro futuro piano piano. Guarda qua, ti sto costruendo i futuri. Ma questa è una mattonella. E infatti ti sto costruendo una casa a poco a poco. Grazie pubbliche, grazie a voi, grazie Ross e grazie Ross. Ma perché mi hai salutato due volte? Sono pittore, hai fatto la seconda mano. Grazie pubbliche. Grazie a voi, vi amo, vi amo e vi amerò. Basta, fermati. Eh no, scusate, basta applausi. Siamo nel 2011, devi rifarti ai cantanti più giovani. Bravo, rifatti a Shakira. Eppure me la rifarei, essenzialmente. Shakira è quella che canta Shakira, no Shakira, vattene via, è meglio Anna Maria. Grazie pubbliche, mi amiamo a tutti quanti. Siete stucco sopra di me, grazie. No, niente stucco, basta. Nino D'Angelo è cambiato, oggi canta questo. Ascolta, ascolta. No, 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 no. Bravi, grazie. No, 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 no. Ferma Frank, musica anni 80, pezzi vecchi. Ma non può vincere sempre lui, si sente male, guarda. Non capirà mai così. E va bene, va bene. Ecco, guarda, si è già ripreso. Sto salendo come un indonato nuovo. Che sa, l'indonato. E questi che sono? I pennelli. I pennelli. Questa è la mia musica. Super sbattizione di male. Eeeh, va bene. Anche gli stuccatori, vai tutti. Ma non sono stuccatori. Siete un secchio pieno per me, grazie. Vi ame. Grazie. Alla prossima. Ciao. Ciao Pippo. Dove vai? Grazie a Pippo D'Angelo. Io l'avevo premesso.